Ciao a tutti, ciao sono ancora qua, ho appena finito per quello che vedete vestita uguale, l'unica differenza del video precedente è che adesso ho i capelli legati, perché anche se io ho un fredocane mi davano fastidio averli sciolti. Adesso siamo qui a parlare di un video, a fare un video profumosi! Prima c'era il make up, nel video precedente adesso i profumi, le mie due passioni. Allora voglio parlare di profumi, di tre profumi, no, cinque profumi del solito brand che vuol dire The Body Shop. Non ne sento mai parlare qui sul tubo di questa famiglia The Body Shop. Io uso, lo sapete, l'ho fatto vedere in altri video in passato, uso lo scrap, uso la crea per il corpo, so che sono prodotti un po' costosi, che se ne trovano tanti e altrettanto buoni a un costo molto 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 basso, è vero, però io è anni che mi trovo bene con questi prodotti e uso questi prodotti. Uso anche gli altri ma uso anche questi. In questo video invece vuoi parlare nello specifico dei profumi dei Body Shop. Body Shop è sempre stato conosciuto, o almeno io l'ho sempre conosciuto, famoso per l'olio profumo olioso al muschio bianco. Fate cerchito qua, muschio bianco. Io è anni che ho questo profumo, questo ce l'ho al muschio e poi è nata una versione molto più tardi alla vaniglia, infatti anche il colore è diverso. Questo è ancora quasi nuovo perché in realtà gli basta veramente pochissimo per, ora non mi dice che ho le mani molto fredda, ecco gli basta veramente pochissimo con questo pennellino e gli basta pochissimo per avere il profumo perché sennò è molto olioso. Vaniglia pura, vaniglia pura e dura una vita. Io queste qua ce le avrò da, a dir poco, vent'anni perché me le portava sempre la figlia di una mia amica che sta in Svistra, di una mia ex amica perché adesso è tanto che non siamo più amiche per motivi personale e me la me la portava la sua figlia, ogni volta veniva qua ce le portava un po' a tutti di qua di Maresca e io l'ho sempre conservato perché so che adesso di questi oli profumato è cambiato il packaging, adesso ha un packaging molto ma molto bello, non è più così, quindi io queste le conservo perché sono i vecchi packaging che lo amo, lo amo, lo amo, lo e che dire di questo marchio che ne sento parlare pochissimo? Io ho acquistato un profumo, un'agua profumata sempre di questo profumo e adesso vi vado a parlare, il profumo si chiama black muschio, black muschio, stupendo, è stupendo perché non è al muschio e adesso vi le noto effettive di questo black muschio, io lo prendo sul sito di The Body Shop, allora una fraganza dolce e femminile con fresche note di pera, pera bambinella, pepe rossa, bergamotto, poi notte centrale, quindi cuore, calde, calde di liquidizie e gilang gilang, gilang gilang, e notte di vase, quindi le note fondo, dolce sensuale di un muschio nero e una vaniglia, vaniglia nera, vaniglia nera, scusate oggi non so parlare, dolce sensuale di muschio nero e vaniglia nera, è stupendo questo profumo, è buonissimo, tanto è che io ho preso anche la sua acqua profumata, che a me mi sembra anche diversa, eppure è uguale, il nome è uguale, Eau de Toilette, Eau de Parfum, solo che Eau de Toilette lo fanno di 100 ml e Parfum lo fanno soltanto da 50 ml, e il costo di questo profumino è il 50 ml, 35 euro, e il 50 ml, quindi non è neanche un prezzo costosissimo, invece l'acqua profumata, dove ce l'ho, perché l'avevo scritto, 100 ml e 42 euro, perché l'acqua profumata è molto, ma molto persistente, quasi alla pare del profumo, ve lo dico perché le uso e le ho provate, provate, quindi siamo molto lì, packaging è molto bello, tutto fucsio e nero, guardate, è bellissimo, bello bello, sempre di The Body Shop, ho provato a prendere una linea che è un po', come si può dire, la linea, la linea, se mi stava spengendo il telefono, la linea nicchia, perché, perché più concentrava il profumo, perché il prezzo siamo sempre lì, e sto parlando di lui, di questo profumo, guardate che il packaging è già più, è già diverso, la scatola marrone, con il dentro, l'etichetta dorata, il profumo è questo, ho preso questo, ce n'è 5, 5 di queste linee, con la bottiglia fatta uguale, ho preso questo perché era scontato addirittura del 20%, e per provare ho voluto prendere questo, non è che, non è che, tra i 5 sicuramente era quello più, meno venduto, non lo so, perché l'aveva messo solo lui, con lo sconto il 20%, a me piace tantissimo, mi sa proprio di profumo, è un po' come profumi are, un profumo misterioso, un profumo con le spezie, con il tavacco, i legni, per questa stagione qua la trovo, lo trovo stupendo, vado a leggere che dice di questo profumo, praticamente è una fragranza, è speziata, legnosa, e dentro ci abbiamo un pasciuli, pasciuli, incenso, per un tocco misterioso e seducente, intrigante, ambrato, e avvolgente, quindi ci abbiamo avvolgente, intrigante, misterioso, seducente, avvolgente, di tutto di più, in effetti è un profumo, io lo disse subito, intrigante, perché ha quell'odore che troviamo di solito nei profumi arabi, io lo trovo che è buonissimo, lo trovo di un carattere, come si può dire, un carattere che non tutti se lo possono permettere addosso, ma perché dico questo, io non è che me ne intendo dei profumi, io dico il mio modesto parere, perché è così strano, particolare, che a qualcuno può non piacere, quindi è un profumo non per tutti. consigliatissimo, questo è un 50 ml, costava 38 euro, e l'ho pagato 20 euro, se andate adesso, in questo periodo, perché io l'ho comprato una settimana fa, però ho visto prima di fare il video, sul sito che c'è ancora lo sconto su questo profumo, quindi ve lo consiglio vivamente. Loro, quando ci arriva il pacco, ci mandano sempre dei campioncini, in questo caso me l'ha mandato delle crepe del corpo, una al gusto, non lo so leggere perché scrivano che io non ci capisco una mazza, se volete leggere voi. E con questo, che dire, io vi ho parlato anche di questi profumini che non ho mai sentito parlare sul tubo, e ve le consiglio, ve le consiglio veramente tanto, perché sono profumini che durano tantissimo, 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 ma tanto, 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 ve lo posso giurare, è una cosa, questo è buonissimo, è stupendo, quindi io ve le consiglio vivamente questi profumi, soprattutto questi all'olio, che adesso lo trovate con un packaging molto molto, molto, molto bello. Ne ho acquistato un altro, Altiare, che la bottiglia addirittura è ancora più bella, che ve lo faccio vedere, però ne parlerò di lui in un altro momento perché lo ritengo un profumo più stivo, ve lo faccio vedere, scusate perché ce l'avevo proprio qua, la scatola è così, con tutti i fiorellini, e il packaging è questo, guardate bella gialla, tutta fluo, e il packaging è questo, è bellissima, questa è un 100 ml, e questo è al tiare, praticamente, sì, isola del tiare, e questi sono i packaging che troviamo in questa, in questa bella linea, bella, come posso dire, questa linea, questa marca, questo brand, non so come si dice, The Body Shop. Con questo adesso vi saluto, vi rinnovo ancora il ringraziamento sempre per le persone che dedicano 10 minuti del suo tempo a guardarmi, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!